Siamo oggi al presidio di Piazza Meta, Fisac CGL, contro la cessione degli MPL e di tutti i dipendenti dell'ufficio. Ovviamente siamo contrari alla cessione dei dipendenti, alla cessione del lavoro che può essere mantenuto all'interno, risorse preziose che non possono essere cedute. Siamo 350 dipendenti dell'MPL, colleghi che sono stati premiati a febbraio a Firenze e oggi sono stati partorendo la cessione. Siamo contro alle cessioni dei lavoratori, che hanno valorizzato le risorse mantenute all'interno e anche economico esternalizzare i colleghi.